... Il corpo delle capitane di Porto, guardia costiera e per svolgere pienamente le funzioni di SAR, marittimo, soccorso, radar di ricerca, farro di ricerca, visori notturni per tutto l'equipaggio e zattere di... ...che affiancherà il Golf Charlie Alfa 71, il più veloce battello della guardia costiera italiana, famoso per le sue elevate qualità nautiche che gli permettono di operare anche in scenari operativi complessi. NEMO 11, altezza stimata a tre piedi, dietro. ... 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